Musica Un piano straordinario per le infrastrutture della Liguria, lo ha annunciato il ministro De Micheli questa mattina a Savona. In corso le verifiche tecniche dopo il crollo del viadotto sulla A6. Se si levanti avrebbero dovuto partire oggi il lavoro di potenziamento della massicciata di Renà danneggiata dalla mareggiata. Il chiosco verrà smontato intanto a Villa Fontana e continua il monitoraggio della frana. Il possesso e l'uso dell'energia atomica per fine di guerra è immorale e va contro ogni possibilità di futuro. È il forte richiamo del Papa al memoriale di Hiroshima. Il Papa nella Santa Messa di Tokyo si è rivolto a tutta la società giapponese contaminata da competizione e ansia per il guadagno, invitando a dare il benvenuto a ciò che non è perfetto perché comunque degno di amore. Il catechismo come un momento di formazione per bambini accompagnati dalla loro famiglia. È il senso del percorso proposto dalle parrocchie e richiamato dal Vescovo a Sestri Levante. Telepace propone uno speciale sui libri che raccontano la storia della diocese di Chiavari. Dalle origini del cristianesimo ai giorni nostri, questa sera faremo un salto indietro nel tempo. L'inizio alle 21.10. Formare persone che sappiano cogliere la realtà è l'obiettivo dell'isiduto Maria Luigia di Chiavari, oggi al centro della rubrica Una scuola per tutti. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Il giorno dopo il crollo del viadotto sulla A6, la procura di Savona ha avviato l'indagine anche sullo stato dei piloni del viadotto nel tratto tra Altare e Ferragna. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco hanno dichiarato chiuse le ricerche di possibili veicoli coinvolti. Preoccupa tuttavia lo stato del versante e la possibilità anche di altri distacchi. Questa mattina intanto la prefettura Savona è arrivato, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli si è parlato delle verifiche sull'altracareggiate e sulla possibilità di intensificare il traffico ferroviario tra Savona e Torino. De Micheli ha poi annunciato un piano straordinario per le infrastrutture della Liguria. Vediamo. Le priorità delle prossime ore sono la continua ricerca di eventuali persone che possono essere transitate su quel viadotto. Le ricerche sono molto puntuali, molto dettagliate. Il fatto che non piova più ci consente anche di renderle più veloci. Nelle prossime ore insieme al concessionario i vigili del fuoco e la protezione civile stanno controllando sia gli eventuali ulteriori movimenti franosi della frana che si è staccata ieri ma anche gli effetti sull'altro viadotto come ha prima illustrato il presidente Toti perché quando quel viadotto verrà riaperto dovrà e sarà riaperto nella massima sicurezza. Inoltre Anas sta predisponendo il piano. In parte alcune strade statali sono già state riaperte ma che prevede anche laddove ci sono le situazioni più critiche di riaprire non oltre 5-6 giorni dai fatti avvenuti e quindi garantire comunque un minimo di normalizzazione della situazione. Ora è del tutto evidente che siamo in piena emergenza e quindi il governo prioritariamente sosterrà le istituzioni locali tutte per affrontare l'emergenza sia con le risorse economiche che con l'allargamento dello stato di emergenza e quindi la possibilità di intervenire con la somma urgenza per i sindaci e per il presidente della provincia. Un minuto dopo usciti dall'emergenza io credo che dobbiamo dare la disponibilità alla Liguria per immaginare un piano straordinario perché gli eventi di questi ultimi anni ci raccontano di un territorio che ha fragilità conosciute e a volte anche sconosciute sulle quali non solo servono risorse ma servono interventi coordinati per garantire alle persone e alle imprese di poter lavorare in sicurezza e credo che le vicende di ieri ce lo abbiano dimostrato ulteriormente. Una cabina di regia che coordini questi primi fasi di interventi sulla viabilità verrà istituita qui in prefettura coordinata dal prefetto che è qui al mio fianco questo per quel che riguarda l'emergenza. Poi avremo il tempo e il modo anche piuttosto rapido per puntualizzare quelle che saranno i contenuti di questo piano straordinario per la Liguria. E proseguono senza sosta le attività dei tecnici per il ripristino della piena funzionalità delle linee ferroviarie. Riattivata la circolazione su entrambi i binari tra Luano e Albenga rimane sospesa la circolazione sulla tratta Alessandria-Acquiterme-Savona. Al momento la viabilità stradale tra Acquiterme e Savona rimane interrotta senza la possibilità di istituire il servizio sostitutivo con autobus e che sarà attivato in funzione dell'evoluzione della disponibilità stradale. I passeggeri in partenza da Savona e diretta da Alessandria-Acquiterme sono autorizzati da Trenitalia a utilizzare i treni via Genova col biglietto in loro possesso senza maggiorazione di prezzo. Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato la richiesta di riconoscimento dello Stato di emergenza e in particolare di estensione del decreto approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri anche alle zone maggiormente colpite dall'ultima ondata di maltempo che ha interessato il territorio da venerdì 22 novembre fino alle prime ore di questa mattina. Secondo i primi calcoli si stimano complessivamente 330 milioni di euro di danni tra sommorgenze 30 milioni di euro e danni invece strutturali per 300 milioni. Il Vescovo Calogero Marino esprime a nome di tutta la dioce di Savona Nolli la propria vicinanza anche con la preghiera alle tante persone che hanno subito e che stanno subendo gravissimi disagi per le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito duramente il territorio savonese nelle scorse ore. La diocesi si rende disponibile, si legge nel messaggio anche attraverso i suoi organismi, a venire in conto alle situazioni di necessità che dovessero crearsi a causa di questa calamità. Il Vescovo Marino porge inoltre un caloroso ringraziamento a quanti si stanno adoperando per prestare soccorso e ristabilire il più possibile la normalità. Torniamo nel Tiguglio, ancora circolazione a senso unico alternato sulla statale 586 della Val d'Aveto per una frana che si è staccata in un versante nel comune di Mezzanego. La zona è stata transenata e la circolazione è limitata a una corsia regolata da un semaforo. Il tratto stradale di competenza ANAS e si attende l'intervento della ditta incaricata da loro per fare accertamenti sulla stabilità del versante e sgomberare l'asfalto dai detriti che sono caduti. E il maltempo ha avuto anche qualche strascico nel Tiguglio con frane e piccoli smottamenti. Resta sotto osservazione il versante di Villa Fontane alle spalle di Seste Levante dove a causa delle abbondanti precipitazioni i sensori che monitorano la frana che interessa tutta la collina sono scattati. Ieri c'è stato un primo sopralluogo di tecnici e del sindaco che hanno valutato anche l'ipotesi di dover rendere inagibile l'area. Fortunatamente si tratta di seconde case per cui al momento non c'è nessuno nelle abitazioni. A breve dovrebbe iniziare il secondo lotto degli interventi per mettere in sicurezza tutto il versante. Restiamo a Seste Levante. Questa volta il mare ha colpito in modo particolarmente violento il litorale di Renà a Riva Trigoso. Qui le onde nella notte tra sabato e domenica hanno aperto un varco nella massicciata rischiando di coinvolgere anche una struttura che ospita un piccolo bar. Questa adesso resta smontata mentre nelle prossime ore si aprirà il cantiere già previsto per il secondo lotto di interventi. Vediamo. Oggi dopo l'arrivo delle autorizzazioni doveva iniziare il secondo lotto che consiste nella riprofilatura di tutta la linea di costa così come si vede nel tratto dove siamo già intervenuti. cioè arretrando la linea di costa e formando una scogliera di massi digradanti a protezione della strada. In effetti nonostante i gravi danni che sono di nuovo intervenuti nella parte diciamo più verso lato Moneglia la zona dove siamo già intervenuti con i massi è rimasta intatta. Quindi pensiamo ragionevolmente che sia la direzione giusta verso cui continuare. soprattutto quando sarà attivato il terzo lotto per cui abbiamo ottenuto in queste settimane i finanziamenti e avvieremo adesso la gara d'appalto per assegnare i lavori che riguarda la sistemazione di una difesa mare cioè di una sorta di isolotto, di secca, di scogli che fuoriescono dalla superficie del mare più verso lo scoglio della Sø che hanno lo scopo di proteggere il litorale. I lavori avrebbero dovuto partire oggi quando entreranno quindi i cantieri in azione. Ma oggi comunque iniziano la costituzione del cantiere quindi se il tempo lo permette dà le condizioni di sicurezza nei prossimi giorni di questa settimana il cantiere si apre comunque. La mareggiata ha peggiorato la situazione sono necessari altri interventi o rientra tutto il lavoro che si andrà a fare in quello previsto? E questo è un aspetto che stiamo ancora valutando nel senso che nella parte finale del pezzo di Renat sicuramente ha prodotto dei danni ingenti. È comunque il tratto su cui dobbiamo intervenire quindi l'impresa e l'ingegnere che ha fatto tutto lo studio che ci ha consentito di intervenire valuterà nei prossimi giorni se questi danni sono danni aggiuntivi o se possono rientrare nell'ambito del percorso di lavori. È stato avviato dal Comune di Sestilevante il percorso finalizzato a revocare la concessione affidata alla Onsport per la gestione della piscina comunale. La procedura si è resa inevitabile e non può più essere rinviabile alla luce dei gravi e continuati inadempimenti della società ai propri obblighi patrimoniali. Alla procedura di revoca avviata dal Comune il gestore ha risposto in questi giorni formulando una proposta di accordo a cui il Comune ha fatto seguire una propria controproposta. Si apre ora una fase di valutazione in cui l'amministrazione rimane impegnata a rendere possibile la continuazione di tutte le attività svolte nell'impianto a condizione che l'attuale gestore dimostri la volontà di far fronte ai propri obblighi. E ora apriamo una pagina dedicata al viaggio apostolico del pontefice in Giappone riprendendo due tappe significative vissute nella giornata di ieri. A Nagasaki Francesco ha celebrato la prima messa dal suo arrivo nell'isola nipponica partendo dalle ferite del passato e delle esperienze di dolore vissute in questa città il Santo Padre ha invitato a non cedere all'indifferenza ad alzare la voce in difesa di tutti i sofferenti e le vittime delle guerre di ieri e di oggi. Il servizio curato da Radio Vaticano lo vediamo insieme. Sul Calvario davanti a Gesù che moriva in croce molte voci tacquero, altre lo deridevano. Solo quella del ladrone buono seppe alzarsi e difendere l'innocente sofferente in una coraggiosa professione di fede. Nagasaki, città giapponese ferita nel profondo dalla devastazione nucleare, è un moderno Calvario e il suo popolo, riunito al stadio del baseball per la celebrazione eucaristica presiduta dal Papa è imitato a non tacere, ma ad alzare la voce come il malfattore nella professione della propria fede. Cari fratelli, dice Nagasaki porta nella propria anima una ferita difficile da guarire, segno della sofferenza inspiegabile di tanti innocenti, vittime colpite dalla guerra di ieri, ma che ancora oggi soffrono per questa terza guerra mondiale a pezzi. Alziamo le nostre voci in una preghiera comune per tutti coloro che oggi stanno patendo nella loro carne questo peccato che grida in cielo, perché siano sempre di più quelli che, come il buon ladrone, sono capaci di non tacere né di ridere, ma che con la loro voce siano capaci di profetizzare un regno di verità e di giustizia, di santità e di grazia, di amore e di pace. Un regno di verità e di giustizia, di santità e di grazia, di amore e di pace. Dopo la preghiera a Nagasaki, il Papa si è recato al memoriale di Hiroshima che sorge esattamente dove il 6 agosto 1945 esplose la bomba atomica. Francesco si è commosso dinanzi alle testimonianze dei sopravvissuti, quindi ha rinnovato il monito, il possesso e l'uso dell'energia nucleare per fini di guerra. È una cosa immorale. Vediamo. In mezzo alle numerose nubi che oscurano il cielo del nostro tempo, leviamo il grido mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza. L'uso dell'energia atomica a scopi bellici è immorale, come lo è il possesso delle armi nucleari. Dal memoriale della pace di Hiroshima, costruito lì dove 74 anni fa esplose la bomba atomica, il tributo di Papa Francesco alle vittime di quel 6 agosto 1945 si fa tutt'uno con la testimonianza di chi, sopravvissuto alla tragedia, ha sopportato con forza e dignità, sottolinea il pontefice, le sofferenze più acute nel corpo e i germi della morte nell'anima. Con convinzione, dice, desidero ribadire che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è oggi più che mai un crimine, non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale, come è immorale il possesso delle armi atomiche, come ho detto due anni fa. Saremo giudicati per questo. Saremo giudicati per questo. Circa 900 i giovani che hanno accolto Papa Francesco nella cattedrale di Santa Maria a Tokyo, tre ragazzi hanno proposto la loro testimonianza e Francesco ha poi risposto in spagnolo con varie aggiunte a braccio. La cosa più importante non è tutto ciò che possiedo o che posso acquistare, ma con chi posso condividerlo, ha detto il pontefice, parlando della fatica a trasmetterla fede nella società altamente sviluppate. Francesco ha invitato a porre la speranza in un futuro basato sulla cultura dell'incontro, dell'amicizia, dell'accettazione, della fraternità, del rispetto per la dignità di ogni persona. Infine il Papa ha parlato del fenomeno del bullismo, ha invitato i ragazzi a fare rete fra di loro per fermare appunto questo fenomeno. Al termine dell'incontro è stato donato al Papa un chimono corto raffigurante la sua immagine e il fiore di ciliegio. Quando in Italia era mattina, Francesco ha celebrato la messa. Francesco al Tokyo Dome invitando a riconsiderare le nostre scelte quotidiano per non restare intrappolati o isolati nella ricerca del successo ad ogni costo. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Essere lievito profetico di una società che sempre più protegga e si prenda cura di ogni vita, dialogando con tutti, anche con chi ha diverse convinzioni religiose, è l'esortazione di Papa Francesco ai cristiani del Giappone, dove l'economia estremamente sviluppata non impedisce che molte persone restino ai margini. Oltre 50.000 ai fedeli presenti alla messa al Tokyo Dome, lo stadio coperto ad est della capitale. La ricerca della competitività, il carrierismo ed il consumismo rendono impermeabili e insensibili alle cose importanti, spingendo il cuore a battere per le cose superflue o effimere, ha detto Francesco, commentando il discorso della montagna e riferendosi in particolare alle caratteristiche della società giapponese descritte all'inizio della celebrazione dall'arcivescovo di Tokyo, Monsignor Tarcisio Isao Kikuchi. Casa, scuola e comunità, destinate ad essere luoghi dove ognuno sostiene e aiuta gli altri, si stanno sempre più deteriorando a causa dell'eccessiva competizione nella ricerca del guadagno e dell'efficienza. Il Signore, invece, invita a non considerare i beni materiali come trappole per passare da un io isolato, segregato e soffocato ad un noi condiviso, celebrato e comunicato. La comunità cristiana è dunque invitata a proteggere ogni vita e a testimoniare uno stile segnato dalla gratuità e dalla compassione, dalla generosità e dall'ascolto semplice, capace di abbracciare e di ricevere la vita, così come si presenta con tutta la sua fragilità e piccolezza e, molte volte, persino con tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso. Tra gli appuntamenti della visita pastorale nell'ambito di San Silevante e Riva Trigoso, il Vescovo Diocesano ha incontrato i genitori dei ragazzi del Catechismo all'Oratorio di San Bartolomeo della Ginestra. Un'occasione per sentirsi comunitassi sia attraverso momenti conviviali, sia attraverso lo scambio di testimonianze. Noi eravamo presenti. Il Catechismo non è un servizio finalizzato all'istruzione dei bambini e ragazzi, ma un cammino di formazione in cui devono essere formati, accompagnati dalle famiglie e dagli altri membri della comunità. Questa è in estrema sintesi la ragione dell'incontro tra Monsignor Alberto Tanasini e i genitori dei ragazzi del Catechismo all'interno della visita pastorale d'ambito. È stato un momento importante per comunque testimoniare che al di là del Catechismo dei ragazzi comunque dietro c'è sempre la famiglia, ci sono dei genitori che comunque ci tengono a questa realtà cristiana che non vada perduta. C'è un bisogno comunque per tutte le famiglie di riandare un po' al senso e alle ragioni della propria fede e del senso che ha a portare un bambino a catechismo che deve essere nell'ambito di una scelta familiare che deve essere condivisa. Il desiderio è quello che il momento della formazione serva anche agli adulti per essere effettivamente compagni di viaggio in questo viaggio che è un po' la scoperta della fede e anche dei propri bambini. L'incontro, svoltosi all'interno della visita pastorale, ha riunito cinque parrocchie tra Sestri e Riva. Un'occasione per avere uno sguardo più ampio oltre quello del proprio campanile e condividere il cammino. Ci crediamo tantissimo all'incontro di stasera. Prima di tutto perché c'è il nostro verso. Il secondo luogo è un momento di famiglia, di comunità, di tante comunità. Una piccola chiesa composta di tutte le parrocchie del Sestrese insieme. Quindi è un momento bello dove incontriamo tanti volti di genitori che forse vedono quanto sia bello crescere insieme come chiesa e come comunità. Di là che abbiamo conoscenza e siamo amici con gli altri catechisti, così però diciamo è un abbattere anche quelle famose barriere che un tempo c'erano. L'ambito è una parrocchia un po' più allargata però è la testimonianza di più persone, di più parrocchie che fanno comunque lo stesso cammino. Vi ricordo che questa sera Telepace trasmetterà uno speciale dedicato ai libri sulla storia della diocese di Chiavari perché la stampa cattolica ebbe grande spazio proprio negli ultimi decenni dell'Ottocento a Chiavari fu punto di riferimento del dibattito culturale del tempo e luogo dove affrontare numerosi temi. Tra le pubblicazioni si ricorda la rivista diocesana La Sveglia e solo una delle curiosità contenute nei tre libri della storia della diocese di Chiavari presentata proprio nei giorni scorsi. Abbiamo un'intervista ve la faccio vedere. C'è uno spazio nei libri della diocesi dedicato alla stampa cattolica in particolar modo ad un periodico ecco ce ne vuol parlare? Sì, si tratta della sveglia che in alcune fasi della sua storia è stato chiamato anche il risveglio ha subito un'evoluzione interessante che diciamo io ho puntato la mia attenzione sul periodo che sta fra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento Quali sono le tematiche più attuali per quel periodo? Ad esempio all'epoca l'Italia si era unificata da poco tempo si discuteva ad esempio dei monumenti che venivano inaugurati in quel periodo stava per sorgere il monumento a Mazzini quella che era Ciasa de Coi si dibatteva molto perché ovviamente non era gradito un'altra questione su cui già allora si discuteva animatamente era la questione della cremazione che ovviamente in ambito cattolico diciamo che è in contrasto con i principi che tradizionalmente sono vigenti per la nostra fede si discuteva di massoneria c'erano anche questioni internazionali di alleanze in ambito internazionale era da poco assorto la triplici alleanza dove veniva stampata la sveglia e che diffusione aveva? era proprio una rivista locale che aveva il suo fulcro qui nel territorio chiavarese tant'è vero che addirittura in ogni numero venivano pubblicati gli orari ferroviari da Riva Trigoso fino a Genova anzi mi pare addirittura dalla Spezia fino a Genova e così era un servizio ulteriore come oggi vengono pubblicate le programmazioni dei cinema oggi che cosa rimane di questa ricchezza dalla stampa cattolica locale secondo lei? oggi si è un po' perso diciamo la diffusione di queste riviste che sicuramente all'epoca erano molto popolari e facevano una parte importante nella cultura popolare avevano un ruolo importante nella cultura di massa e vi dicevo appunto che Telepace trasmetterà uno speciale dedicato a libri della storia della diocesi ospiti saranno gli studiosi Barnaba Bernabò Alice Gatti Osvaldo Garbarino e Pierluigi Pezzi l'inizio questa sera 21.10 Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando è stata aperta la nuova area pedonale di Corso Dante via Veneto a Chiavari sono terminati gli interventi di restyling di Piazza Roma lato nord e ora è possibile usufruire del nuovo tratto per raggiungere comodamento tutto il centro storico cittadino è stato realizzato un ampliamento dell'area pedonale già esistente con la posa di nuova pavimentazione in arenaria e il rifacimento dei sottoservizi con l'inizio del 2020 ha annunciato il sindaco di Capua verranno installate alcune panchine per una maggiore fruizione dell'area con una sigaretta accesa ha danneggiato la sella dallo scooter di una giovane di 18 anni con la quale poco prima aveva avuto un diverbio è successo nei giorni scorsi a Portofino e per questo dopo la denuncia della ragazza un 51enne di Lavagna già conosciuto le forze dell'ordine è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri per danneggiamento aggravato i militari hanno ricostruito l'episodio utilizzando i filmati dell'impianto di videosorveglianza comunale il danno allo scooter è stato quantificato in 120 euro e anche oggi tutto il tiguglio si è mobilitato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne oggi la violenza contro le donne e le ragazze secondo quanto sottolinea l'ONU è una delle violazioni dei diritti umani più diffusi persistenti e devastanti nel mondo rimane anche una delle violazioni meno segnalate a causa dell'impunità del silenzio dello stigma e del senso di vergogna che lo circondano per accendere i riflettori su questo fenomeno sono state diverse le iniziative che hanno animato le piazze del territorio queste immagini provengono dal centro di Chiavari in piazza Mazzini sono state disposte a terra diverse paie di scarpe rosse a ricordare le numerose donne vittime di violenza mentre la facciata del palazzo della cittadella è stata illuminata di arancione colore simbolo di questa giornata a Lavagna alcune sedie vuote di colore rosso sono state posizionate in piazza Falcone dove gli studenti di diverse scuole del territorio hanno proposto una riflessione sul tema della violenza in genere organizzata l'associazione culturale Lago Rà la manifestazione ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e di alcuni rappresentanti dell'arma dei carabinieri anche il comune di Sessi Levante ha aderito alla campagna del Saroptimist International Club Tigulio in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere la fontana di piazza Matteotti è stata illuminata del colore arancione scelto per simboleggiare un futuro più luminoso libero dalla violenza nei confronti di donne e di ragazzi un'iniziativa che intende creare una sensibilità sul fenomeno purtroppo ancora molto diffuso e ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani può partire la sigla appuntamenti per martedì 26 novembre dalle 9 alle 13 in via Salvi zona Tannino a Sessi Levante sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero possibilità di acquisto diretto di prodotti agriolimentari della zona il museo scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12 nei locali del seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento dalle 9 alle 14 apertura del museo archeologico al primo piano di Palazzo Rocco in via Costa Aguta a Chiavari in esposizione reperti e testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese orientati e non stereotipati il titolo dell'incontro che si svolgerà a partire dalle 10 all'Istituto Comprensivo di Rapallo Vittoria Gozzi presidente di YLab ed Elena Parodi fondatrice di Mad Lab 2 di Genova incontreranno i ragazzi della terza media l'Accademia Culturale di Rapallo nella sede di Villa Coirolo propone alle 16 l'incontro con Chiara Rossi dal titolo dalla memoria alla rete i vocaboli che attraversano il tempo per i corsi di cultura genovese alle 16.30 la sala livellare in via del Pino a Chiavari si terrà l'incontro con Anna Rita Canessa sul tema i ruderi del Cenobio di San Tommaso del Poggio di Rapallo mettersi in gioco con lo sport è il titolo del convegno che si aprirà alle 20.30 al teatrino del liceo sportivo Gianelli di Chiavari interverranno Davide Mazzanti allenatore della Nazionale Femminile di Pallavolo Monsignor Antonio Suetta delegato per lo sport della conferenza episcopale Ligure Daniela Loero coordinatrice didattica del liceo Gianelli Campus Andrea Paroni portiere della Virtus Entella Domenico Criscito capitano del Genoa alle 21 nella sala del maggior consiglio a Palazzo Ducale di Genova si parlerà di bellezza amicizia sociale ed economia l'evento promosso dalla Compagnia delle Opere per la città di Genova e per la regione Liguria L'ATP informa che domani martedì 26 novembre causa temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la provinciale 23 della Scoglina le corse per Favale di Malvaro delle ore 14.12 e 15.10 saranno limitate al campo sportivo passiamo adesso alla palla nuoto maschile con Lavagna 90 che è stato battuto dal Metanopoli 13-12 nella seconda giornata del campionato di serie A2 Liguri sconfitti ma che hanno offerto una prova di spessore contro una squadra di livello superiore segnale che fa ben sperare in vista della trasferta di Como in programma sabato 30 il servizio che abbiamo realizzato una sconfitta che motiva la squadra a continuare su questa strada per migliorare così l'allenatore della Lavagna Andrea Martini commenta la sconfitta di misura contro il Metanopoli una partita contro una squadra di livello superiore ma giocata alla pari dai Liguri hanno giocato la Leone anche i miei ragazzi sono contentissimo spiace perché probabilmente qualche episodio qualche scelta arbitrale ma non per dare la colpa degli arbitri perché sbagliano come i giocatori gli arbitri sbagliano non voglio dire nulla che semplicemente se l'errore magari dell'arbitro pendeva magari più dalla nostra parte nel senso che se c'è un rigore dubbio e sbaglia a darlo o non sbaglia a darlo non saprei dirvelo sicuramente magari il risultato oggi sarebbe stato diverso per il resto tolto questo noi dobbiamo pensare ora alla prossima partita non è questa la partita del Lavagna nel senso che questi devono vincere il campionato il Lavagna deve fare altre cose sabato andiamo a Como sarà difficilissimo dopo una partita così bella tenere alta la concentrazione e questa è la difficoltà del mio lavoro però sono ovviamente contento ho visto ottime cose abbiamo fatto pochi errori soprattutto difensivi quindi non posso essere altro che contento e carico per lavorare per fare meglio partita combattuta e decisa degli episodi con i Lombardi che riscono a capitalizzare al massimo un rigore combinato alla superiorità numerica durante l'ultimo quarto abbiamo trovato un Lavagna molto combattivo molto forte molto preparato infatti anche se hanno perso gli faccio i complimenti alla squadra siamo stati bravi alla fine nel capitalizzare bene gli uomini in più che alla fine è stata quella stata la differenza non mi è sembrata una partita molto nervosa tra le due squadre sono state tantissime espulsioni molto agonismo molta voglia di vincere però tutto nella norma siamo stati bravi noi a vincere complimenti anche a Lavagna che ha fatto una buona partita prosegue il nostro percorso tra gli istituti paritari cattolici del territorio dalla nostra rubrica una scuola per tutti oggi la nostra meta è la scuola Maria Luigia di Chiaveri ne vediamo un'anticipazione nel servizio che segue crescere persone che sappiano stare nella realtà è l'obiettivo dell'istituto Maria Luigia di Chiaveri non proteggerli da essa ma dare loro strumenti per affrontarla questa è la base di un percorso educativo che si rinnova di anno in anno con la scelta di una frase che lo rappresenti e valga per tutti i ragazzi dalla sezione primavera alla scuola secondaria di primo grado per il 2019 e 2020 è stata scelta più in là un invito ad andare alla ricerca del significato della realtà oltre a quelle che possono essere le prime difficoltà o le gioie effimere in maniera sintetica vuole dire qual è il percorso educativo che vogliamo fare quest'anno allora l'anno scorso c'era scritto alza le vele cioè affronta la realtà insieme a me che ti accompagno senza nessuna paura perché la realtà è positiva ultimamente positiva quest'anno ci siamo accorti che la realtà ti provoca o perché ti stupisce per com'è bella o perché ti fa fare fatica perché non fa quello che vuoi tu no? però richiede che tu per capirla e per conoscerla ne vada vada alla ricerca del suo significato quindi più in là dell'apparenza vai al fondo della realtà e a questo concorrono tutte le discipline quindi noi ci teniamo non soltanto a dare delle informazioni ma a far fare un cammino che gli insegnanti fanno insieme ai ragazzi di scoperta della realtà bene il nostro giornale termina qui prossimo appuntamento con l'informazione domani 12.45 con Tiguglio oggi questa sera non perdete l'appuntamento direttamente su grazie per la vostra cortesa attenzione buona serata a tutti televederci grazie 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 a tutti